ciao a tutti ragazzi bentornati nel nostro canale youtube sono in compagnia di laura oggi andiamo ad unboxare la collection di rockman 11 per nintendo switch regalo che mi ha fatto laura per il mio compleanno un regalo veramente splendido grazie mille amore di nulla veramente stupendo guardate la faccio vedere la scatola si poi vabbè per chi non conoscesse la serie in italia è conosciuto come megaman sì 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 ecco qua il retro della scatola vediamo cosa c'è vedete come c'è il gioco poi ci dovrebbe essere un booklet qualcosa del genere di 32 pagine credo un poster e l'amiibo speciale della della collection veramente veramente bellissimo e adesso vado ad unboxare come potete vedere c'è un po' di plastica da aprire vediamo se non se riesco ad aprire senza spaccare niente spero di no ok ok ce la farò eh ve lo prometto direi che ho distrutto abbastanza la plastica appena ecco solo è praticamente solo la plastica da aprire non c'è scotch né niente andiamo a vedere il contenuto dentro c'è un'altra scatola è enorme quindi tanta roba scatola bianca ecco c'è l'apertura qui vediamo si 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 è proprio a vedi proprio a incastro così e si solleva allora cosa abbiamo all'interno ah è un non è un poster ma un telo un wall scroll di megaman andiamo a vedere imbustato con un pochino di scotch vediamo si apriamolo vediamo cosa c'è ecco qua allora vabbè c'è il foglio di scritto in giapponese di varie allora è uno standard c'è qui devo portare il jet vai allora fiero c'è c'è aspettate che ve lo inquadro ecco così va fierissimo ma guardate quanto enorme tanta tanta roba e non è che c'è un poster c'è una bandiera dentro e beh la bandiera di megaman 11 fa il suo figurone beh dai questo bel telo un bel contenuto una bandiera una specie di di standard ok poi il booklet o sketchbook di 32 pagine credo aspettate che ok eccolo qua aspetta andiamo a farlo vedere allora oh molto bello c'è proprio tutti i megaman dall'87 l'88 come potete vedere tanta 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 roba qui ci dedichiamo proprio al vero e proprio gioco si vediamo qui no è fatto bene dai tutti insomma personaggi oggetti vari robot si alle varie armi si ah tutti proprio tutti i propri personaggi wow tanta tanta roba molto dettagliato come si 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 no è proprio fatto veramente bene no non è uno sketchbook ma è proprio una specie di guida strategica del gioco praticamente tanta tanta roba grazie ancora amore regalo stratosferico si no comunque è proprio un coso ah e qua c'è l'illustrazione l'illustrazione del copertino stendardo si si del gioco di tanta 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 roba davvero veramente bellissimo e adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno ancora un foglio bianco che appunto separava queste cose qua da allora l'amiibo oddio bellissimo davvero 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 bello tanta 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 roba rockman qui sarò indeciso se aprirlo o meno perché veramente questo questo lo lascerei anche così quasi qua immacolato proprio bellissimo e poi abbiamo ovviamente il gioco vabbè tanto è inutile che lo apro tanto comunque dentro c'è una schedina e basta che tra l'altro qui mi sa che c'era un codice da scaricare dal 3 ottobre al 30 novembre credo non lo so si ma vale ancora ah vale ancora 2019 ah è vero è vero è vero è vero è vero è vero fino a praticamente 3 ottobre quindi il tempo c'è quindi a posto quindi c'è anche il codice per scaricare rockman x si no ma allora si no questo mentre l'altro è scaduto l'altro è scaduto c'è a rockman x e 11 e poi invece quest'altro c'è uno stage particolare vabbè è vero io poi vediamo se c'è altre cose nascoste non credo no non c'è niente vabbè amore quante cose vuoi no vabbè non si sa mai magari nascosto c'è una volta altra cosa quindi allora ricapitolando abbiamo in questa collection il gioco ovviamente di megamen si megamen 11 l'amiibo poi abbiamo questo questa specie di guida cioè per farvi vedere quanto è grande è enorme proprio anche e poi il pezzo forte lo metto qua se non mi casca tutto vabbè eccolo qui ok e poi abbiamo anche cioè questo è un tocco di classe lo standard è bellissimo tanta 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 roba questo telo questa è la scatola enorme anche 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 questa che dire bene ragazzi io direi che per il video di oggi è tutto grazie ancora laura per il regalo grazie ancora amore e niente se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao ciao